bene buon pomeriggio molte grazie agli organizzatori di torino spiritualità per questo invito voi sapete che in questi ultimi anni è molto cresciuto nel nostro paese l'interesse per gli animali ma nello specifico anche per la vita mentale degli animali e per il comportamento degli animali e cioè bene e naturalmente molti di noi che studiano il cervello e la cognizione animale hanno contribuito credo alla diffusione di questi interessi però oggi cercherò di fare un po l'avvocato del diavolo e di farvi vedere che per alcuni aspetti la nostra comprensione della mente delle altre specie anche del cervello è imperfetta e quindi forse dovremmo essere cauti nell'utilizzo di certe parole o nella adozione di una similarità troppo stringente e quindi vi parlerò un pochino di equivoci alcuni di questi equivoci ne parliamo sul libro sono in un certo senso ovvi e poco interessanti no noi vediamo stampato sulla faccia sul muso dei delfini una specie di sorriso che in realtà non c'è per davvero perché i delfini non hanno il controllo della muscolatura facciale soprattutto della parte inferiore che tipica della nostra specie o di certi primati antropomorfi quindi il sorriso del delfino qualche cosa che vediamo noi ma che non c'è nella sua testa e così le espressioni che riconosciamo in molti animali domestici per esempio i cani sono un inganno intenzionale nel senso che noi abbiamo creato questi animali con questa foggia con questa morfologia e con questi comportamenti e ci leggiamo in un certo senso quello che ci abbiamo messo in altre circostanze l'equivoco può essere più rischioso ma non è il caso insomma queste latitudini uno sbadiglio in realtà potrebbe essere una esibizione di minaccia un display come si dice in etologia ti mostro le zanne per farti vedere che stai correndo un rischio sto per attaccarti oppure in alcuni casi fra intendiamo grossolanamente certi comportamenti per esempio il koala barbicato sul tronco di un albero non è necessariamente è soltanto un tenero pigrone è un animale che non è capace di sudare e di conseguenza le temperature in cui si trova a vivere nel suo habitat quello che fa di cercare di stare al fresco e un modo per farlo e di stare appoggiato aderendo con la massima superficie possibile alla superficie degli alberi e vedete questa è una termografia che sono molto più fresche del resto dell'ambiente però tutti questi esempi e se ne potrebbero fare molti sono secondo me poco interessanti perché uno potrebbe dire voi mi potreste dire beh io non faccio lo zoologo lettologo di professione quindi è ovvio che queste cose non le so magari potrebbe essere interessante per me saperle in riferimento agli animali domestici ma più che di equivoci si tratta semplicemente di cose che non so perché faccio un altro mestiere giustamente più interessanti sono i casi secondo me che servono ad illustrare come anche tra gli addetti ai lavori le cose siano poco chiare e ci siano possibilità di equivoci quando utilizziamo una terminologia psicologistica che è stata come dire messa a punto per la nostra specie e la trasferiamo agli altri animali vi voglio raccontare un caso che secondo me è esemplare che è questo qualche anno fa su una importantissima rivista scientifica che si chiama science è uscito un lavoro che già nel titolo dichiarava di aver dimostrato di aver fornito per la prima volta l'evidenza del fenomeno dell'empatia di una specie non umana l'esperimento era congiugnato nel modo seguente c'è una vittima un ratto che è chiuso dentro una scatoletta di plexiglass trasparente e un conspecifico che se ne sta fuori dopo vari giorni di questa interazione il quinto giorno al minuto 25 adesso la velocità è normale assisterete alla prima apertura della gabbietta e la liberazione della vittima questo in buona sostanza l'esperimento cioè si dimostra che in assenza di un addestramento esplicito spontaneamente l'animale va ad un certo momento a liberare il suo compagno e l'interpretazione è che lo faccia perché riconosce lo stato mentale empaticamente lo stato mentale dell'altro vede che sta male tanto male forse non stava perché avete visto che è tornato dentro comunque adesso c'è una fase come dire di celebrazione i due animali corrono si toccano si annusano questo quello che dobbiamo aspettarci dal punto di vista del repertorio comportamentale ora molti colleghi hanno criticato diciamo così questo lavoro perché ha vari difetti ne parleremo tra un attimo ma quello che volevo sottolineare questo contesto è una cosa un po diversa e la potete vedere nella prossima diapositiva tra un momento e cioè più o meno nello stesso periodo su una rivista scientifica pure importante ma non così importante soprattutto senza la risonanza mediatica che ha caratterizzato questo lavoro è stato pubblicato un lavoro scientifico del tutto simile nelle caratteristiche generali ma che riguardava una specie in vero molto differente che è questa allora queste sono delle formiche del deserto che molto spesso nel loro ambiente naturale che è fatto di terriccio di sabbia si trovano a essere un po semisepolte perché c'è stato un piccolo franamento allora si tirano fuori e spesso le compagne le aiutano qui la cosa è aiutata dallo sperimentatore nel senso che la formica è imprigionata sotto il terriccio perché una delle sue zampette perfidamente è stata legata con un filo di nylon e adesso vedete che le compagne si mettono al lavoro dopo un po di esplorazione cominciano a lavorare vedete togliendo rimuovendo questi che sono dei veri massi per loro delle pietre enormi e anche assistendo semplicemente a questo comportamento è difficile negare che sia in gioco un comportamento di tipo intenzionale però la cosa interessante è che questo articolo non ha menzionato affatto il termine empatia ma ha utilizzato anche nel titolo una espressione molto più anodina e cioè rescue behavior comportamento di salvataggio allora il punto è come mai nel caso dei ratti siamo disposti a utilizzare il termine empatia e nel caso delle formiche invece utilizziamo comportamento di salvataggio visto che i dati sperimentali sono del tutto similari anzi come vi dicevo sono più convincenti nel caso delle formiche perché ci sono più controlli per esempio si è visto che loro si mettono al lavoro soltanto per salvare un membro della colonia non lo fanno per esempio per salvare un altro un altro individuo nel caso dei ratti tra l'altro c'è una interpretazione alternativa molto ovvia che è quella di dire siccome questi animali quando sono in una situazione di stress emettono dei suoni di allarme degli ultrasuoni può darsi che il compagno quello che era libero fuori non l'abbia liberato per come dire condivisione empatica della sua sofferenza ma semplicemente per zittirlo cioè un po' una situazione tipo quella dei coniugi che si conoscono da molto tempo a un certo momento uno dice vabbè ti do ragione basta che stai zitta o che stai zitto qualcosa di simile guardate empatia così come lo intendiamo noi significa riconoscere lo stato mentale dell'altro e provarlo su se stessi questa è una cosa molto complicata da attribuire a specie che non posseggono la possibilità di una comunicazione verbale con noi e questo tipo di esperimenti non dimostra che c'è empatia né nei ratti né nelle formiche ovviamente il problema come potete capire è relativo al modo in cui noi utilizziamo termini come per esempio comportamento intenzionale comportamento intenzionale dal punto di vista di un biologo può indicare semplicemente qualche cosa che si è evoluto che è stato selezionato dalla selezione naturale per l'appunto perché produce certi tipi di vantaggi in chi lo mette in atto e non c'è dubbio che questi comportamenti abbiano questa caratteristica ma lo hanno anche altri comportamenti molto più semplici che so certe forme di mimetismo che voi potete osservare negli animali che sono delle forme di inganno ma sono degli inganni non consapevoli nel senso che non c'è dimostrazione del fatto che l'animale mette in atto petra quell'inganno con una intenzione di ingannare e questo è molto difficile da documentare che cosa potrebbe convincerci? Beh considerate come esempio come noi empatizziamo oppure no nei riguardi nei nostri simili e come noi abbiamo la possibilità riconoscendo uno stato mentale di comportarci in maniera diversa a seconda dello stato mentale riconosciuto indipendentemente dagli stimoli che sono presenti. Il mio esempio favorito è questo. Immaginate che qui sul palco assieme a me ci sia una bella ragazza legata completamente legata ed è lì che sta gemendo e che si sta lamentando. Allora voi presumibilmente riconoscete il suo stato di vittima tipo quella del ratto prigioniero anzi in questo caso ancora più estremo e vi precipitate per liberarla ok? Adesso immaginate la stessa situazione c'è lì una ragazza gemente completamente legata però voi sapete in qualche modo perché la conoscete eccetera eccetera che sta semplicemente facendo qualche cosa assieme al suo partner in cui indulgono a volte gli esseri umani e cioè quella cosa che viene chiamata bondage che è una delle pratiche sessuali cioè lei è legata sta gemendo eccetera però è contenta di quella situazione perlomeno voi potete riconoscere il suo stato mentale e dire beh in realtà non la vado a liberare perché le farei un dispetto non per l'eternità intendiamoci no ma nella situazione specifica non la vado a liberare perché riconosco il suo stato mentale allora voi avete una situazione che è identica dal punto di vista degli stimoli e del comportamento stessi gemiti stessa situazione stessa ragazza legata eccetera però in un caso riconoscete uno stato mentale e vi astenete dal fare alcunché nell'altro caso riconoscete un altro stato mentale e mettete in atto un certo tipo di comportamento ecco in questa possibilità come dire di opzione che voi riconoscete il vero riconoscimento di uno stato mentale questo tipo di esperimento non dico che sia impossibile ma fino adesso non siamo stati abbastanza furbi abbastanza intelligenti da trovare un modo per condurlo nelle altre specie e quindi non siamo davvero sicuri a dispetto di quello che si continua a dire che nelle altre specie non umane vi sia quella cosa che noi chiamiamo empatia c'è un altro aspetto che è interessante qui naturalmente oltre alla faccenda dell'empatia e vorrei fare una piccola digressione su questo ed è il fatto che certo le formiche e i ratti sono molto diversi però i segnali che ci fanno rispondere a ci fanno riconoscere qualche cosa come una creatura animata non come una cosa vivente e quindi una gente che è capace di intenzioni sono piuttosto generali quali sono queste queste caratteristiche alcune sono caratteristiche di tipo morfologico per esempio la presenza di una faccia noi infatti vediamo le facce un po dovunque nelle macchie sui muri sulla luna o su marte vediamo le facce nei peperoni vediamo le facce di belzebù in questo caso nei fumi che si alzano da twin towers eccetera eccetera e badate questa faccenda delle facce è interessante perché non è il risultato di un apprendimento gli esperimenti che sono stati condotti sui bambini piccoli piccoli sui neonati mostrano che loro hanno un interesse e non a caso per caratteristiche faccia simili sia naturalistiche sia molto artificiali come quelle che vedete qua per cui bambini di pochi minuti guardano più a lungo configurazioni faccette come queste in cui le caratteristiche sono messe nell'ordine giusto rispetto a queste in cui sono scrambled riassemblate o per esempio rovesciate e lo stesso fenomeno e questa sembra essere sulla base delle ricerche condotte fin qui la l'idea platonica della faccia e cioè un cerchio più o meno tondeggiante che ha dentro tre macchie ad alto contrasto disposte nella forma canonica di un triangolo rovesciato a questa struttura rispondono i piccoli di moltissime altre specie anche molto diverse da noi le scimmie ovviamente gli scimpanzè ma anche sorpresa sorpresa i miei bene amati pulcini pulcini appena nati quindi che non hanno mai visto niente del mondo appena usciti dall'uovo in condizioni controllate avvicinano preferenzialmente uno stimolo come questo piuttosto che uno stimolo come questo oppure uno stimolo come questo oppure uno stimolo come questo in cui le condizioni di simmetria sono pareggiate oltre a questi aspetti statici della stimolazione però ci sono quelli dinamici che sono più importanti qualche anno fa io mi ero fatto prestare da mio figlio uno di questi giocattolini forse ve li ricordate li vendevano nelle edicole però non si presta a teatro e quindi ho fatto una specie di filmato da treno sono come dire delle schifezze che hanno delle sembianze zoomorfiche molto approssimative fatte in cina taiwan eccetera con colori molto vivaci c'è dentro una piccola batteria quando lo fate funzionare lui semplicemente vibra e la vibrazione produce dei movimenti piuttosto erratici e casuali che fa sì che quando lo vedete anche se non sembra un animale vero dite oh cavolo sembra vivo in molte circostanze succede una cosa di questo tipo e cos'è che determina e che fa sì che qualche cosa ci sembra vivo beh dei segnali molto precisi che il nostro cervello interpreta per esempio se voi prendete una figura umana ci mettete delle dei punti luminosi in corrispondenza delle articolazioni in modo da ottenere una roba così quando guardate un singolo fotogramma se non sapete di che cosa si tratta non vedete niente di particolare però se questo viene messo in movimento vedete che immediatamente si riconosce una figura umana che cammina e non solo la forma in realtà è possibile riconoscere il tipo di attività in cui queste 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 persone sono immerse coinvolte se ci pensate bene è quello che fa qui il nostro cervello è straordinario perché lo stimolo è estremamente impoverito ci sono dei puntini che si muovono con una certa cinematica e tutto il resto lo ricostruiamo noi anche qui da dove viene questa sapienza uno dice va forse abbiamo imparato noi vediamo un sacco di movimenti nel corso della vita beh qualche anno fa noi abbiamo provato a fare un esperimento abbiamo preso ancora pulcini che non ho mai visto niente del mondo appena usciti dall'uovo e gli abbiamo fatto vedere configurazioni con una piccola differenza proviamo a vedere prima questo filmato qua se può cliccare qui sopra qui compare ecco che bestia è questa bravo oppure un dinosauro ma ci sono buone ragioni paleontologiche per cui è possibile fare sbagliarsi questo invece è lo stesso rigido qui potete ancora riconoscere una gallina potrebbe essere una gallina impagliata cioè si riconosce la forma ma il movimento non è quello tipico della specie e nell'ultimo infine semplicemente rovesciata upside down notate quanto sia facile qui riconoscere la gallina e qui dopo un po invece è molto difficile questo si chiama inversion effect effetto di inversione ed è caratteristico non solo del movimento biologico ma anche delle facce sono se avete mai visto le facce in negativo per esempio rovesciate sono molto difficili da riconoscere comunque insomma per farla breve quello che abbiamo trovato che i pulcini piace tantissimo questa roba qua voi direte vabbè è poco sorprendente allora una mia collega però di padova ha provato a ripetere l'esperimento con i neonati della nostra specie che avevano una media di circa 70 ore di vita quindi piccoli piccoli più piccoli così non si può e gli ha fatto vedere non dei filmati umani ma ancora la stessa cosa e cioè o una gallina che cammina oppure una gallina che si muove con movimento rigido risultato preferiscono questa a poche ore di vita come ho detto la mia collega c'è un bias qua perché trattasi di neonati padovani quindi uno potrebbe dire vabbè c'è una predisposizione diciamo così no però seriamente anche per i neonati padovani è improbabile che a poche ore di vita abbiano avuto occasione di vedere delle galline che si muovono tutt'al più hanno visto l'ostetrica se va bene eccetera in realtà sembra che ci sia una predilezione chiamiamola così in realtà è un meccanismo che è preformato innato nel cervello che fa sì che tu presti attenzione a certi tipi di movimento che più probabilmente ovviamente sanno quelli della mamma sia che tu sia una gallina sia che tu sia un neonato perché il movimento semi rigido caratterizza il movimento di tutti i vertebrati in realtà vi sto raccontando queste cose per sottolineare un altro punto questo è il cervello di un pulcino e quello che noi stiamo facendo è della ragione per cui stiamo usando questo animale come modello che va benissimo perché possiamo controllare in maniera perfetta l'esperienza che l'animale ha avuto prima dell'esposizione prima dell'esperimento con i neonati non siamo sicuri facciamo queste cose anche con i neonati non siamo mai veramente sicuri che non abbiano visto anche di sfuggita una faccia venendo fuori l'ostetrica o non abbiano visto un po di movimento biologico con gli animali siamo assolutamente sicuri e poi possiamo cercare di andare a vedere che cosa succede nel loro cervello e se ci sono delle aree specifiche che si occupano come dire di rilevare di detettare nel mondo la presenza di agenti animati che è una cosa così importante per loro va bene adesso non vi annoio su questo abbiamo delle tecniche per farlo molto sottili che consentono di andare a misurare l'attività di singole cellule nervose e quello che abbiamo trovato per esempio è che c'è una regione nel cervello che si chiama setto e che è molto antica è sottocorticale ed è condivisa dai mammiferi e dagli uccelli e lì ci sono dei neuroni che rispondono in maniera specifica a questi segnali di animatezza che ti fanno dire ah lì c'è un agente animato c'è quel bruchetto che cammina ma ovviamente c'è un ratto una formica eccetera qualsiasi cosa abbia quelle caratteristiche vi racconto questa questa cosa ho fatto questa parentesi per sottolineare questo questo aspetto chi fa il mio mestiere spesso viene come dire richiesto di spiegare o di giustificare perché fa certe cose per quello che riguarda la loro utilità dal punto di vista pratico perché per esempio per quello che riguarda la nostra specie questo è curioso nel senso che non si chiede mai un genetista perché usa drosofila melanogaster il moscerino della frutta per studiare la genetica quello come dice vabbè è andata così ma nel caso dello studio della mente del cervello lì è disturbante l'idea che uno studia i pulcini polli o drosofila o un qualche vermetto schifoso immaginando di imparare qualche cosa di importante per noi considerate però questo aspetto questi meccanismi di cui vi sto parlando sono in un certo senso i mattoncini per la costruzione del cervello sociale sono quelle cose che ti servono per riconoscere gli agenti animati e poi per imparare le caratteristiche del loro comportamento e quindi per riconoscere i tuoi conspecifici e quindi per interagire con le persone voi sapete che ci sono certi disordini dello sviluppo uno in modo particolare e cioè disordini cosiddetti dello spettro autistico che sono per l'appunto caratterizzati da una difficoltà a leggere come dire la presenza degli agenti animati e interpretarli nei termini di processi mentali che si posseggono e il guaio con questi disordini è che non riusciamo a diagnosticarli prima di circa due tre anni e allora recentemente abbiamo avuto questa idea ma non è magari che queste robine qua semplici semplici che noi studiamo nei nostri pulcini e nei neonati le facce il movimento biologico e altre cose che non ho tempo per raccontarvi oggi sono in qualche modo disturbate in partenza in questi bambini e quindi poi producono un effetto a cascata quando queste persone diventano adulte allora quello che abbiamo fatto è di con un gruppo che è coordinato all'istituto superiore di sanità organizzare un laboratorio mobile che è quello che vedete qua e andare a studiare bimbi che sono fratelli o sorelle di altri bambini di solito fratelli a cui è già stato diagnosticato una una forma di autismo questi bimbi sono abbastanza rari però ci sono perché spesso le famiglie comunque decidono dopo un primo evento di questo tipo di provare avere ancora un altro bambino e sono genitori che sono estremamente collaborativi interessati a collaborare con i ricercatori noi siamo veniamo avvisati quando nasce uno di questi bambini corriamo lì con il nostro laboratorio che cosa facciamo ma gli facciamo vedere esattamente lo stesso set di stimoli che abbiamo preparato in precedenza che avevamo preparato e studiato nei nostri animali e poi nei bambini a sviluppo cosiddetto normale quindi ho detto un esempio questo è un neonato e viene misurata con precisione il movimento dello sguardo in questo caso alla presentazione di questo tipo di stimoli lo si può fare con precisione adesso con certi strumenti che l'elettronica ci fornisce e i risultati sono tanto per darvi un'idea di questo tipo questi sono i bambini a basso rischio i bambini a sviluppo tipico e vedete che loro preferiscono la faccina alla faccina rovesciata che è quello che ci aspettiamo ma i bambini a rischio elevato non hanno alcuna preferenza stessa cosa quando confrontate il movimento biologico per esempio con il movimento random i bambini a sviluppo tipico preferiscono il movimento biologico quelli ad alto rischio non hanno preferenza anzi hanno addirittura un trend una tendenza a preferire il movimento casuale stessa cosa per il movimento rigido vedete chiara preferenza e assenza di preferenza notate questo succede su neonati che hanno tra i 6 e i 10 giorni di vita cioè abbiamo la possibilità se questa cosa viene confermata e funziona di fare delle diagnosi precocissime per vedere che c'è qualche cosa che non va e vi ho raccontato questa storia sono un po' uscito dal seminato con l'intenzione per cercare di farvi capire diciamo così perché i ricercatori fanno certe cose con animali che certe volte possono sembrare strani e che a volte suscitano anche come dire la disapprovazione delle persone perché secondo me non sono a conoscenza di quelle che sono le ragioni che spingono a condurre e a fare quello che facciamo torniamo agli equivoci sugli animali e adesso provo davvero a fare un po' l'avvocato del diavolo e a darvi qualche dispiacere primo dispiacere riguarda i delfini allora tra i molti stereotipi che c'erano secondo me c'è questo che i delfini sono super intelligenti e sono super intelligenti perché hanno un grande cervello allora che siano super intelligenti non è documentato nel senso che tutti i dati che sono a disposizione oggi degli psicologi comparati, degli etologi eccetera mostrano che i delfini sono intelligenti tanto quanto gli altri vertebrati cioè gli altri animali non fanno cose straordinarie rispetto a quello che fa un ratto, un gatto, uno scimpanzee o un bambino piccolo però è vero effettivamente che se voi considerate le dimensioni assolute del cervello qui ne vedete degli esempi, questo è un scimpanzee, questo è l'uomo e questo è un delfino io me le ricordo bene perché prima di spostarmi a Trento sono stato per un periodo a Trieste e lì avevo un collaboratore che era appunto interessato all'anatomia del cervello dei delfini succede lungo le coste dell'Adriatico che a volte i delfini si spiaggiano e non c'è modo di salvarli in questo caso lui correva per cercare di salvare almeno il cervello e poterlo poi studiare ed è impressionante a vedersi, però qualche mese fa questo signore qua che è un neuroscienziato sudafricano che si chiama Paul Munger ha messo un po' a rumore la comunità scientifica perché si è posto la domanda ovvia e cioè va bene hanno un grande cervello ma come sono fatti questi cervelli dentro in realtà a parte il volume complessivo e quello che Munger ha trovato è abbastanza sorprendente e cioè che dentro il cervello i neuroni nel cervello dei delfini sono piuttosto sparse come diciamo in inglese, cioè sono radi, rarefatti, non sono tanti, sono piuttosto pochi in termini di densità relativa e c'è invece, spiega l'incremento volumetrico, un sacco di glia un sacco di cellule gliali. Ora la glia svolge varie funzioni, forse anche collabora con le funzioni dei neuroni però certo una funzione che svolge è di isolante termico. Allora Munger ha avuto questa idea, non è che c'è una relazione tra la grandezza del cervello e quanto è fredda e l'acqua dove le varie specie di delfini si trovano? Perché in realtà la grandezza del cervello di delfini è molto diversa da specie a specie. Lui ha provato a controllare, effettivamente ha trovato che tanto più l'acqua è fredda, tanto più grande è il cervello e lo è non perché ci siano tanti neuroni ma perché ci sono tante cellule gliali. Siccome il cervello per funzionare bene ha bisogno di stare al caldo, è possibile, è plausibile che il grande cervello dei delfini sia semplicemente qualcosa che non ha niente a che fare con l'intelligenza ma ha semplicemente a che fare con la funzione delle cellule gliali come isolante termico. Costernazione generale. Secondo esempio, questo più impositivo e questo mi fa particolarmente piacere raccontarlo, io come alcuni di voi sanno sono stato per anni un sostenitore di quanto sia pregevole il cervello delle galline a dispetto della cattiva fama di cui godono e però i dati che abbiamo a disposizione per indicare questo riguardano il comportamento, cioè quello che le galline effettivamente sanno fare, i pulcini nello specifico nel caso del lavoro nel mio laboratorio. Ma anche qui, che dire di quello che c'è dentro? Allora, una delle ragioni, credo, per cui le galline e altri uccelli hanno una cattiva fama in inglese si dice bird brain in generale, non solo chicken brain, ma il cervello degli uccelli, perché il cervello è piccolo. Però tutti noi sappiamo che il cervello degli uccelli è piccolo per buone ragioni, perché siccome loro devono volare, hanno cercato di ridurre al minimo tutto il peso di tutte le strutture del corpo, le ossa sono cave, per esempio, e il cervello è per quanto possibile miniaturizzato. Ma dentro questo cervello piccolo quanti neuroni ci sono in realtà? Questa è una domanda interessante perché ve la potreste porre anche per quello che riguarda la nostra specie. Non so se vi è mai capitato di leggere le riviste di divulgazione scientifica, i rotocalchi, eccetera, quando fanno questi numeri speciali sulle meraviglie del nostro cervello. Quello che sempre andiamo a leggere è che il cervello umano ha 100 miliardi di neuroni e uno dice ma dove viene fuori questo numero qua? Chi è lo scienziato che ha fatto questa misura? Bene, qualche anno fa una giovane ricercatrice brasiliana che si chiama Susanna Herculano-House ha provato, era ancora una studentessa, andare in giro ai congressi e a chiedere ai vari professoroni di dirgli qual era la reference, cioè dove aveva trovato scritto questa cosa dei 100 miliardi di neuroni e trovava solo risposte imbarazzate. Questi eminenti neuronatomici dicevano ma mi pare che l'abbia misurato x, y, però quando andava a cercare in realtà non c'erano, non c'erano dati convincenti e quelli che c'erano erano molto indiretti perché per una ragione tecnica molto precisa, come si fa, o meglio come si faceva contare il numero dei neuroni? Beh, voi prendete il cervello, lo fissate, fate una serie di fettine e poi contate al microscopio in queste fettine quanti neuroni ci sono, per dirla semplicemente. Dovete colorarle le fettine ovviamente. Il problema è che la densità dei neuroni cambia a seconda che voi vi spostiate, cioè di dove voi fate la fettina. Immaginate proprio di fare con l'affettatrice zac, 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 partendo dalle regioni più posteriori, più caudali, andando avanti verso quelle più rostrali. E allora quello che si fa è di fare, come dire, un'interpolazione. Cioè si dice, ma qua c'è una densità X, qua c'è un'altra, facciamo una via di mezzo e così facendo veniva fuori il magico numero dei 100 miliardi, perché in realtà la misurazione precisa nessuno l'aveva mai fatta. Bene, la Susanna ha inventato recentemente un metodo furbissimo per misurare il numero dei neuroni nei cervelli di tutti gli animali, di qualsiasi animale. L'idea è piuttosto semplice. Lei fa una specie di zuppa, cioè prende il cervello, scioglie le membrane dei neuroni e poi scuote il tutto facendo una zuppa, come diciamo noi, isotropica, cioè in cui la distribuzione delle cellule, di quel che è rimasto, è uniforme. E con certi metodi si può poi colorare i nuclei e andarli a contare. E facendo così lei ha potuto vedere qual è il numero giusto dei neuroni del cervello umano, che è di 86 miliardi. Ora, in termini di, come dire, ordine di grandezza non è un errore clamoroso rispetto ai 100 miliardi, però non so come vi sentite voi, perdere 14 miliardi di neuroni un colpo solo, cioè piacevole. Però la cosa interessante è che adesso lei e altri colleghi si sono messi al lavoro per vedere come stanno le cose negli altri cervelli. Per esempio, il confronto tra i mammiferi e gli uccelli è particolarmente interessante. Il confronto deve essere fatto a parità di grandezza di peso dei cervelli, per capire qual è la densità dei neuroni. Allora, guardate questi esempi qua. Per esempio, questi sono gli storni. E questo è un ratto. Grosso modo hanno dimensioni simili di cervello, vedete, 1,86 grammi e 1,80 grammi, e però questo numerino qua indica il numero di neuroni in termini di milioni di neuroni. Allora, il mammifero circa 200 milioni, l'uccelletto 483 milioni, più del doppio. Oppure, guardate questo caso estremo qui, finale. Questo è un cacatua e questo è un galagone. Sono scimmie e hanno, vedete, il cervello che pesa più o meno uguale, 10,1-10,2 grammi, un pochino di più il galagone. Allora, il galagone non arriva neanche a mille milioni di neuroni, 936, il cacatua 2.122, più del doppio. Cioè, i cervelli degli uccelli, pur piccoli, hanno in realtà una densità neuronale che è per uccelli come i corvidi e i pappagalli di gran lunga superiore a quella dei mammiferi e delle scimmie, ma anche per le specie, come dire, più primitive, per esempio le galline, le galline hanno una densità neuronale nel pallio, cioè nell'equivalente della corteccia, che è equivalente della stessa ordine di grandezza di quello delle scimmie. E ovviamente non ce l'aspettavamo. Vabbè, lasciamo perdere i cervelli, che è una roba complicata, e torniamo al comportamento, alla cognizione, eccetera. Allora, una cosa su cui molto si è discusso e si continua a discutere è alla fin fine, ed è la cosa che ci interessa di più, se gli animali, gli altri animali, posseggano una coscienza, una consapevolezza. E anche qua io credo che dovremmo riconsiderare un po' un sacco di cose che noi ricercatori abbiamo scritto sui manuali, un sacco di stupidate in questi anni. Una delle stupidate, secondo me, riguarda la famosa faccenda del riconoscimento allo specchio, che è considerato, e ancora adesso viene divulgato sulle riviste, eccetera, come il test che discrimina tra le specie che hanno consapevolezza e quelle che non lo hanno. La storia probabilmente la conoscete. Negli anni Sessanta, un eminente psicologo americano si stava facendo la barba, e mentre era lì che si guardava allo specchio gli è venuta questa idea di dire ma gli altri animali, quando si guarda in uno specchio, si riconoscono, cioè capiscono che sono loro stessi, o vedono semplicemente un conspecifico. E come potremmo fare un test di questo? E lui inventò il test della macchia e nella forma originaria lui ha preso degli scimpanze, gli anestetizzati, questi scimpanze prima erano stati abituati allo specchio, ovviamente, e mentre erano addormentati gli ha fatto una macchia in una posizione tale per cui non la potevano vedere, che so, sopra il sopracciglio, usando materiali che non hanno odore, evitando sensazioni tattili, eccetera, eccetera. Poi quando si sono svegliati li ha messi davanti allo specchio e ha visto che gli scimpanze si toccano, si grattano, cercano di tirarsi via la macchia. Ecco, e la storia che è emersa da un po' di anni di esperimenti è sostanzialmente questa. Passano il mark test, il test della macchia, i bambini della nostra specie a partire dai 18 mesi circa e le scimmie cosiddette antropomorfe, i scimpanzè, gli oranghi, i gorilla, probabilmente non è proprio sicuro, ma non le altre scimmie, quelle inferiori, come a volte si dice impropriamente, e non ovviamente gli altri animali. E questa storia è stata utilizzata, per esempio, nei manuali appunto per dire c'è un rubicone, abbiamo un test per dimostrarlo, sono coscienti, sono consapevoli, gli esseri umani, gli scimpanzè, gli oranghi, forse i gorilla, il bonobo pure, ma non le scimmie non antropomorfe, non i cani, i gatti, eccetera, eccetera. Questa storia è andata avanti per un po', però pian piano sono cominciati ad emergere dei casi che non tornavano. Per esempio, ancora negli anni 70, qualcuno aveva provato a fare un esperimento con i piccioni, insegnando loro a beccare una macchia colorata, lì non lo vedete il colore, ma vedete la macchia, posta in vari punti, diciamo così, dell'ambiente, e poi quando l'animale aveva imparato, la macchia veniva posta sul corpo dell'animale, con un bavaglino che gli impediva di vederla, vedete, direttamente, però la poteva vedere nello specchio. Allora, all'inizio il piccione è parecchio confuso, però dopo un po' vedrete che cerca di usare lo specchio per dirigere la beccata sul proprio corpo, così. Allora, l'obiezione qui di Gordon Gallup e di altri autori è stata quella di dire sì, vabbè, però questo è un comportamento non spontaneo. Cioè, gli scimpanzè fanno quella roba lì senza che nessuno gliel'abbia insegnato, mentre invece qui prima tu hai dovuto addestrare un piccione con le tecniche di condizionamento a beccare sul pallino e soltanto dopo è capace di fare quella cosa lì. Però recentemente l'esperimento è stato ripetuto con le gazze, senza alcun tipo di addestramento. Cioè, in una situazione simile a quella degli scimpanzè, viene posta una macchia sul corpo dell'animale. Il problema con gli altri animali è che non sono così bravi a utilizzare gli appendici e a manipolare come possono essere gli scimpanzè, ovviamente. Nel caso delle gazze, poverette, fanno quello che possono. Per esempio, cercano di togliersi la macchia, che dovreste vedere qua sotto di colore bianco, con le zampe. Altri dati sono stati ottenuti, forse ne avete sentito parlare, con gli elefanti che cercano di utilizzare la proboscide per togliersi una macchia localizzata qua. Anche in questo caso, ovviamente, non è facile o non è pratico come utilizzare le zampe nel caso degli scimpanzè. Ancora più difficile è la stessa cosa per i delfini. Nel caso dei delfini, Manger non è convinto, ovviamente, ma è interessante che quando vedono macchie sul corpo nello specchio fanno tutta una serie di contorsioni e di movimenti apparentemente per cercare di vedersi. Allora, uno dice cos'è che sta succedendo qua? Cioè, che cos'è che ci dice davvero il test della macchia? Provate a pensarci. Che cos'è che è successo quando da piccoli avete imparato a usare lo specchio? e che cos'è che è necessario per mostrare un comportamento autodiretto allo specchio? In realtà, non è una faccenda di coscienza, è una cosa molto più semplice. Allora, quello che succede è che voi ricevete delle informazioni visive dallo specchio e inizialmente, per tutti gli animali, noi compresi, quella roba lì è un altro conspecifico, è straneo. Guardate che questo tipo di esperienza capita ancora a noi da adulti, no? Per lo meno a me capita, girate per le città dove ci sono un sacco di superfici riflettenti, siete lì e vedete sul lato e dice chi è quello lì che cammina con quell'aria così antipatica che mi è vagamente familiare? E poi dice, ah cavolo, sono io. ecco, una volta che voi avete imparato a riconoscere l'immagine nello specchio, quello che avete fatto è di formare un'associazione tra stimoli visivi e informazione proprioccettiva. Propriocettiva cosa vuol dire? Che, per esempio, il movimento del vostro braccio, anche se non lo vedete, vi viene segnalato da un sistema cinestesico, cosiddetto, Anche senza guardare, voi sapete se il vostro braccio è così oppure è così oppure è così. Ci sono dei recettori che ve lo dicono. Allora, quando siete davanti allo specchio, era il giochino che faceva lo scimpanzè, quello che succede è che voi avete l'informazione proprioccettiva, vedete il braccio che fa così e vedete di ritorno consistente con questo il movimento che viene fatto di ritorno dell'informazione visiva. E a un certo momento dite, ah, così e fa così anche quello lì, non sarà che quello lì sono io? Questo è quello che si richiede per riconoscersi allo specchio, cioè di formare un'associazione tra modalità sensoriali differenti, tra l'informazione visiva e l'informazione proprioccettiva. Perché questo avvenga è necessario che voi siate disposti a guardare l'immagine allo specchio, ma il problema è che molti animali non lo fanno per buone ragioni. Per esempio, le scimmie non antropomorfe non si guardano allo specchio. Quello che succede è che quando voi gli prendete lo specchio per la prima volta reagiscono come se lì ci fosse un conspecifico estraneo e lo aggrediscono, fanno esibizioni di minaccia, dopodiché evitano accuratamente di guardarlo. Ma molti animali domestici fanno così, per esempio i cani, quando li mettete di fronte ad uno specchio quello che fanno loro è di girare il capo così o di mostrare una specie di sovrana indifferenza. Allora, se vengono date come dire le condizioni che forzano questi animali a prestare attenzione e l'informazione visiva connessa con l'informazione tattile e propriocettiva potrebbero imparare. Forse sì? Beh, guardate, recentemente in un laboratorio è successa una cosa divertente che è questa. C'erano delle scimmie che servivano per esperimenti in neurofisiologia e che hanno sul capo una specie di calotta che è tenuta con cemento dentale e serve a reggere dei microelettrodi che entrano all'interno e che stimolano certe regioni del cervello. Ve lo dico così brutalmente con intenzione perché queste persone lo fanno per ottime ragioni quella tecnica lì è la stessa la stessa che viene usata e che è stata sviluppata per trattare i pazienti umani con il Parkinson quindi è bene che sia stato fatto ma a parte questo il tecnico del laboratorio aveva l'impressione che queste scimmie si annoiassero e che fossero le stufe insomma nella gabbia per cui di sua iniziativa ha deciso di introdurre nella gabbia degli specchi e dopo un po' aveva l'impressione che queste scimmie si guardassero lo specchio guardassero l'immagine e poi si toccassero sulla testa non sentono male ovviamente non ci sono recettori del dolore nel cervello e la calottina è l'equivalente di avere una capsula tipo quella che vi fa il dentista dentro la bocca non sentite niente però sentite un po' di stimolazione tattile se vi toccate e la vedete che c'è qualcosa di strano sul capo il professore gli ha detto ma no le scimmie non si riconoscono va a leggerti i lavori di Gordon Gallup va a leggerti i manuali di psicologia e di etologia tutti sappiamo che gli scimpanzai si riconoscono ma le scimmie no il tecnico ma professore però venga a vedere dai lui è andato a vedere e alla fine hanno pubblicato un lavoro su plus one ecco vedete questa è una cosa che i macachi e i resos non fanno mai normalmente no quella di guardarsi e di toccarsi in quel modo lì però lì avevano una ragione la calottina come dire li ha stimolati a guardarsi e a formare la contingenza necessaria al riconoscimento allora siamo con un problema evidentemente no e cioè se il test della macchia non ci dice niente sulla coscienza degli animali che cosa potrebbe dircelo beh proviamo innanzitutto a capire che cosa ci dicono gli esperimenti comportamentali che cosa ci dice il linguaggio considerate un problema più semplice noi tutti conosciamo le illusioni tipo per esempio questa è molto famosa si chiama illusione di Muller-Lier quella specie di fenomeni per cui vediamo cose che non corrispondono alla realtà queste due barrette sono assolutamente identiche come sapete di lunghezza però una sembra più lunga e l'altra sembra più corta nello specifico se siete sensibili dell'illusione questa sembra più lunga e questa sembra più corta anche se sono obiettivamente uguali ora la domanda è come facciamo a sapere se gli altri animali sono sensibili per esempio a queste illusioni qua come dice è impossibile no in realtà è possibile anzi è facilissimo vedere se gli animali sperimentano dal punto di vista del comportamento l'illusione come possiamo fare beh semplice questa è un'altra versione dalla stessa illusione questo pezzetto sembra più corto di questa estremità ve la faccio vedere perché tra un attimo ci sarà una versione fatta così allora per esempio insegno ad un piccione a discriminare due linee di diversa lunghezza una molto lunga e una molto corta e gli do un premio se sceglie questa se becca a questa e non glielo do se becca a questo qua e lo faccio con varie barrettine di varia lunghezza e la regola è sempre se becchi alla più lunga prendi un premio poi quando l'animale ha imparato vi faccio vedere questa cosa qua le due barrette sono obiettivamente identiche a questo punto se lui sperimenta l'illusione come noi allora mi aspetto che sceglierà questa se invece no sceglierà a caso beh questo è un modo per farlo in cui notate l'interrogazione avviene in una maniera come dire non linguistica non verbale cioè gli chiedo semplicemente di beccare di fare un'azione ovviamente e questo è l'aspetto molto interessante in termini di equivoci se c'è la mediazione verbale la cosa appare più convincente anche se non c'è ragione per ciò qualche anno fa Irene Pepperberg ha addestrato Alex un pappagallo che è diventato molto famoso l'ha addestrato per quasi 18 anni a rispondere con delle parole a per esempio un'illusione come questa adesso gli chiede qual è più lungo se ricordo bene proviamo a farlo partire col sonoro anche quale colore è più grande allora il punto che voglio sottolineare qui è che non c'è differenza concettuale anche se questo è molto più carino da vedere tra chiedere con una beccata per esempio o toccando con una mano con una zampa oppure avendo una risposta di tipo vocale come il yellow stentoreo di Alex perché evidentemente non è una parola nel senso proprio quella di Alex è semplicemente un'etichetta sonora che sta per quella stimolazione lì allora questo tipo di esperimenti ci dicono che dal punto di vista del comportamento l'animale può riconoscere la lunghezza e può anche sperimentare che a parità di lunghezza fisica una cosa sembra più lunga o sembra più corta ma non ci dice niente su che cosa qualitativamente l'animale sperimenti cioè su quella che è la sua esperienza consapevole per convincervi di questo vi faccio un altro esempio che è questo questa cimietta qua è molto famosa tra i neuroscienziati come me perché negli anni 70 è stata studiatissima si chiama Ellen è stata studiatissima da un professore di Oxford che si chiamava Lawrence Weissgranz che si interessava al recupero delle funzioni nella corteccia cioè dopo che c'è stata una lesione per esempio nelle aree occipitali qua dietro della corteccia le persone sono cieche appaiono cieche corticalmente lui era interessato a capire se in certe circostanze era possibile recuperare un poco di questa sensibilità visiva e allora aveva incaricato un suo studente Nicholas Humphrey che poi è diventato molto famoso e che forse conoscete per i suoi studi sulla coscienza di fare compagnia in buona sostanza ad Ellen portarsela in giro e cercare di vedere se pian pianino recuperava un po' di vista un po' di visione e dopo sei mesi questa scimmietta aveva una lesione bilaterale alla corteccia occipitale quindi praticamente gli mancava quella parte della corteccia che ci consente di vedere gli esseri umani in quelle condizioni non vedono niente sono ciechi beh guardate quello che questo è un filmato storico quindi non si vede benissimo un po' sgranato ma dà l'idea se lo facciamo partire questa Ellen che si muove in laboratorio supposta cieca vedete che non urta gli oggetti si muove con grande maestria adesso gli vengono lanciati delle vedete delle noccioline le prende le porta alla bocca cioè se non ve l'avevo detto se non ve l'avessi detto non avreste l'impressione di trovarvi di fronte ad una scimmia che dovrebbe essere cieca corticalmente perché vi racconto questa storia perché dopo queste osservazioni Weiss-Grenz ha provato a vedere che cosa succede per davvero nei pazienti umani nei soggetti umani che cosa ha fatto ha preso delle persone che per via di un ictus o altro hanno una lesione più o meno grande nella corteccia visiva allora anche senza che sia distrutta tutta la corteccia quello che succede è che se voi avete una lesione nella corteccia visiva voi avete una zona del campo visivo che è caratterizzato da uno scotoma cioè dentro quella zona lì voi non vedete niente faccio in maniera da proiettare che so una A esattamente in quella regione lì ti chiedo che cosa vedi e il paziente dice non vedo niente allora vai screnza provato fare un gioco di questo tipo ha detto il paziente lo so che non vedi niente però dai per favore tira a indovinare per esempio ti faccio vedere un bastoncino e il bastoncino è orientato o così verticalmente oppure così orizzontalmente tu prova a prenderlo con la mano ma questo è interessante perché se voi dovete prendere un bastoncino di diverso orientamento se è verticale fate così se è orizzontale fate così il movimento è diverso se chiedete ai pazienti di fare questa cosa qua voi vedete che nel 100% dei casi praticamente fanno il movimento giusto non solo se per esempio proiettate un flash di luce che so in alto o in basso nello scotoma nel campo visivo cieco e gli dite per favore indica con la mano dove era la luce questi si arrabbiano e ti dicono dottore non vedo niente ma prova lo stesso ma non vedo niente come faccio a provare vabbè dai prova tira prova e allora lui fa un movimento così più o meno irritato su varie prove e ci azzeccano praticamente sempre alcuni di questi pazienti addirittura riconoscono la forma negando di riconoscerla quindi ti faccio vedere un triangolo o un cerchio dimmi per favore adesso hai visto un triangolo o un cerchio paziente dottore non ho visto niente vabbè dai tira prova tira a indovinare 100% corretto questi pazienti come potete capire sono molto interessanti perché mostrano un comportamento adeguato visivo quindi sono un po' l'equivalente di quella scimmietta lì che si muove prende gli oggetti non urta eccetera però questo comportamento visivo non è accompagnato in nessun modo da qualche cosa nel teatro della coscienza quindi loro stanno così fanno colà orientano la mano eccetera però negano di aver visto alcunché di aver visto la scimmietta la scimmietta è una scimmietta